buongiorno buongiorno al dottore claudio saracino da benessere l'ipnosi soluzione l'ipnosi di cese vera e professionale amici miei oggi parleremo dello stress del rinunciare le persone che rinunciano a trovare una soluzione ai loro problemi le persone che dicono no non si può fare nulla no mi hanno detto che non si può no non esiste cura no non esiste soluzione no non esiste nessun rimedio al mio problema tutte cazzate con la k maiuscola amici miei tutte cazzate esiste se credi nel potere della tua mente magari aiutata coadiuvata dall'ipnosi di cese vera professionale anche con solo audio mp3 dices oppure andando presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona perché il sottoscritto ha sospeso al momento tutte le sessioni online di ipnosi di cese a causa dei troppi impegni e poco tempo e iniziare un percorso naturalmente il professionista dell'ipnosi vera e professionale deve aver già affrontato casi come il tuo perché anche nel mondo dell'ipnosi vera e professionale esiste il generalista ascoltami bene lo specialista devi cercare uno specialista e come fai a sceglierlo chi domanda comanda poi se ti vergogni se non hai voglia di girare cappelle santuari di mettere la famosa tuta di perdere il tuo tempo prezioso puoi scaricarti un audio mp3 dicesse che per molti versi è cento volte più potente anche perché tu lo puoi utilizzare h24 seguendo le istruzioni alla lettera la prova di un nonno la prova di un piccolo la prova di un idiota però smettiamola di dire non si può fare nulla e che ti costa rinunciare ad una colazione al giorno per immaginare un cambiamento radicale nella tua vita dalla timidezza ad un problema come l'allergia lo stress la paura l'ansia la cosa ragazzi che non afferra è quando le persone non cambiano modo di pensare pensano sempre come pensa la massa pensano che non si possa fare nulla e convivono con l'ansia fino alla morte ma secondo te è una cosa accettabile oppure no io nel 2008 quando mio padre fu colpito da un iclus fulminante che lo ha paralizzato per tutta la metà destra del suo corpo all'epoca ero un ipnotista autodidatta ipnotizzavo sulle spiagge 10 20 persone alla volta mi ero infatuato dell'ipnosi di quest'arte questa scienza all'epoca era l'ipnosi conformista e commerciale di nilton erickson da cui avevo ottenuto ottimi risultati eliminando insonnia depressione ansia panico dolori cronici dolore allo suo sacro dolore ai denti e chi più ne ha più ne metta però non avevo mai affrontato casi come l'ictus e non sapevo cosa dire quando ipnotizzai con gli occhi mio padre mio padre caccio tantissima acqua dal naso ed ebbi paura e mi fermai lì per lì dopodiché scrissi un email in tutto il mondo in tutte le lingue anche ai medici internazionali anche italiani molto blasonati e conosciuti che usano l'ipnosi chiedendo se loro avessero già affrontato casi impossibili come l'ictus e tutti all'unisono risposero in tutte le lingue no 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 e mentre stavo per gettare la spugna all'orizzonte vedo un email della dottoressa rina brunini di los angeles baby hills la quale mi scrive egregio noi qui ad los angeles abbiamo affrontato e affrontiamo molti casi di paralisi di epilessia di autismo di ictus e casi rari impossibili che gli altri non affrontano chi domanda comanda chiesi quanto costa mi disse 100 dollari la sessione bla 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 mi feci due conti dissi ma che mi costa e se e se e se funzionasse bene mio padre dopo un anno e mezzo quasi due nel letto con pieghi di decupito in soli 30 minuti accompagnato in salotto sotto le ascelle perché mio padre era diventato una larva un vegetale aveva pieghi di decupito in tutto il corpo in 30 minuti davanti a un computer ciofeca una connessione ciofeca più di 11.000 chilometri di distanza mentre la dottoressa rina brunini girava il latte nella sua tazza come si usa in america bene che cosa è successo è che mio padre non partecipava non ascoltava non parlava non vedeva allo schiocco delle dita della dottoressa dopo 30 minuti a rocco alzati e cammina mio padre si alza rannicchiato zoppicando ma camminando è andato direttamente in cucina da mia madre incredibile io non ci ho creduto non ci credeva ancora ho esclamato wow dentro di me e da lì è iniziato il mio percorso l'assistente per due anni per mio padre è migliorato l'ottanta per cento e vissuto altri dieci anni contro ogni aspettativa con condizioni molto discrete cercava mia madre e scherzava con gli amici immaginato un po a 80 anni con un ictus fulminante e camminava pur con il bastone eppure i medici gli specialisti della salute a cui avevo portato mio padre mi avevano detto non c'era nulla da fare esisteva solo liquido anticoagulante per prevenire ma di fatto non esisteva e non esiste nessuna cura se tu ti trovi in queste situazioni per lo stress per l'ictus per qualsiasi altra cosa per favore vai sul sito della mia associazione pro regi associati scaricati e utilizza l'audio mp3 dcs che può fare per te o il tuo caro perché il metodo dcs funziona anche per chi non ti dà l'autorizzazione per chi non vuole o chi non può essere aiutato come lui era mio padre non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare ma soprattutto non rinunciare non credere a chi dice no 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 impossibile non credere fatti due conti a me sono un concesso cosa perdo ecco la domanda a cui devi rispondere e se immagina cosa succede se cambi se elimini il tuo problema ok fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi mi impegni sono a tua disposizione completamente perché la mia mission è quella di sottanare l'ipnosi e non di vendere perché l'associazione i pro regi associati los angeles deve rinunci si occupa della vendita in ogni stato del mondo in cui risiedi visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio sarascino iscriviti per favore su questo canale youtube benessere i pro si soluzioni di cesso del dottor claudio sarascino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid che gli può cambiare la vita come è successo a me a centinaia e centinaia di persone nel mondo e commenta dammi energia dammi voglia di continuare ok a me e a chi ci ascolta e ci vede perché serve serve alla gente bisogna sottocanare la parola ipnosi e soprattutto il metodo di cs che non ha nulla a fare con l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi fuffa e la stessa ipnosi conformista e commerciale che si studia alla scuola all'università perché per tanti motivi anche se ottima quest'ultimo ok nessuno dice il contrario quella di milton ericsson l'ipnosi conversazionale e poi seguimi anche sugli altri social instagram e twitter e benessere i pro si soluzioni di cesso del dottor claudio sarascino un bacio un abbraccio alla prossima ciao ciao